Quello che dovrà succedere, soprattutto appena il secondo posto sarà matematico, è la scelta che ci rende un pochettino più ansiosi del mister di Mazzarri, lui per noi è fondamentale, è importantissimo, rispetto a lui mi sento di dire che la speranza è forte, che lui possa rimanere, poi è vero che in un contesto, anche in un progetto importante come questo, possono cambiare gli interpreti, quindi i calciatori, i dirigenti, gli allenatori, però se proprio devo fare un pensiero e mettere un pochettino di apprezzione lo faccio sull'allenatore perché è stato un elemento aggregante in questi quattro anni, importantissimo, tanto del merito di quello che noi raccogliamo costantemente suo e la speranza di poter continuare a lavorare con lui. Sì, le ultime tre partite col Bologna le abbiamo perse, però questo può essere anche rigirato come un elemento in più di stimolo, perché siamo una squadra di carattere, perché a Bologna magari è vero che l'anno scorso abbiamo perso la Champions League, sarebbe bello poter festeggiare.